Ragazzi, allora, il giorno dopo della partita che la Spagna è andata in finale perché non dovrà battere la Croazia mentre l'Italia è uscita fuori ancora una volta e quindi si angiudica il terzo posto alla fine di Lafour. Quindi dovrà fare un'altra partita contro l'Olanda che siccome l'Italia ha fatto una cosa negativa ieri per non risultato perché ci poteva inserire il 2 a 1 nell'Italia nei fratesi e quindi l'hanno annullato per il fuorigioco ma per me è regolare quindi arbitragio scandaloso con quello che ho visto ieri però loro hanno detto solo a metà che se come l'Olanda si è fatto a morire per proteste allora l'Italia deve partire in contropiede se no come il camore che uniamo così nelle partite allora per Coppa mi ballucci me la devo prendere con lui quando si ritira da qua tu ti devi ritirarti mio caro ti devi ritirare mio caro boni ok quindi questo è il tuo piacere mio caro che siccome hai fatto un errore tu non lo devi fare e questa è la seconda volta è mia prima è vero che una volta sbagli però questa è la seconda partita che sbagli e regalai la partita all'avversario nostro è vero che sei tu ok prima cosa se hai persa questa partita perché te ne rianeta partite però grazie a Carina per questo grazie di tutto caro presidente federazione Gabriele Carina perché giochiamo così a partite questa partita si chiama Gabriele Carina 2.0 ok quindi è questo che ti merita grandissimo cazzo ogni uomo quindi questo è il fatto ogni oggi che sei come tu e io ho fatto una partita sentuosa sotto l'aspetto tattico perché quel tenete a il primo gol oltre al primo gol poi è minuto 1 a minuto su cagioni rigore per farlo di mano così e poi qui la hanno fatto due a minuto a fine è il novantesimo ma come la faccia come giocate smegliatevi smegliatevi smeglia dovete smegliarmi perché io questa Italia qua me la guardo non le partite ok io voglio solo l'Italia nella mia vita perché sono qua io non devo stare con alimenti ma con le partite in Italia io non me le guardo perché è molto perché io siete a schifezzi ok per come ci avete trattato quello è un altro discorso 1 dove per quanto riguarda a noi nel mercato frattesi ha siglato di 2 a 1 però ce l'hanno annullato e quindi regolarissimo per me perché potevo per finire 2 a 1 per l'Italia e non so po' o 2 a 1 o 2 a 2 ma per me per fare il gioco nella Spagna e fare il gioco e basta quindi io so questi episodi dico perché mi fanno letteralmente schifo mi fanno schifo questi arbitri qua ok quindi devo essere così io e dico sportivamente parlando se qualcuno non mi fanno evidenza che non mi fanno segnale che non mi fanno regolare e fuori gioco inesistente lo capite questo lo capite eh www.reg posted看 comunque non ci arrivano chiaramente un minorenno voi non mettete con i pariocchi perché io lo vedo a 360 grandi ok non ma,. seconda cosa e terza cosa io guardo il caciomercato della inventus ok se comandiamo a comprare la frattesi e zanino perché alla inventus io questi morono quindi ora acceneriamo per frattesi e subito non dovete fare acceneriamo questo frattesi cara dirigenza acceneriamo per frattesi forza 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 non mi forza e zanino ha una contropartita per mettermi a grata sarai per niccolo zanino quindi questa è la mia vera iome ok coltiamo iome nere più un secondo chiesa come mbappe e non vorrei però le rende di chiesa la maglia numero 7 che si chiama che è un mbappe che vuole venire alla inventus perché è un sogno quello che si è amicato sogno del parisano femmina quando hanno giocato insieme quindi questo è tutto e questo è il mio pensiero nel caciomercato prima non si tocca ok perché ci sono i mari nomi su ognuno scamacca anche allo stesso contro l'atalanta che è un obiettivo per noi più contro l'atalanta che è un obiettivo per noi e quindi questo è il mio pensiero e sull'anio di Maria io voglio che l'imbala rientrase una altra volta alla jumentus quindi questo è il mio pensiero e in più in difesa ci metto è un nostro ex obiettivo nel jersey e si chiama caidupoli banè quindi per forza dobbiamo accelerare per forza quindi questi sono i copini di mercato poi il bono ci cercherà subito ok l'aspettante sembrava un 2 al 2024 quindi ritirati presto caro mio boni ti fai prima ritirati perché non ti voglio il nazionale io non ti voglio né milano cateni né milano fagioli niente ma perchè noi convoca a questi giovani come il nionto e i raspandoli e che cavolo è oh ma sempre a noi succedono queste cose sempre a noi quindi questo è il mio pensiero quindi giochiamo bene o prendiamo la vittoria che se non giochiamo contro l'olanda allora possiamo fare il nostro meglio contro l'olanda e siena in terza posizione in classifica per questo che dobbiamo stare attenti a quelli di là perchè hanno la carta per affrontare quest'Italia qua e sono sicuro che la minciamo nel terzo o quarto posto alla fine di lavoro quindi non giochiamo bene che se non giochiamo di merda allora perchè non riusciamo a fare il gol così perchè non sono forte e lui no come ho fatto allora la squadra bernabile era la più forte contro l'aspania perchè loro sono forti che hanno una noi siamo fatta grazie a tutti noi siamo forti che abbiamo ragione di essere non riusciani è dunque a picchè un'orosola che ci va la sette che c'è qui e ma un altro c'è questi due c'è questi quattro sono forti ma come avvenete a giocare questa squadra qua come mi fidate a giocare così io penso alla mia squadra nel cuore quando perde e quando si vince mi dà stare un po' zitto ok mi dà soccorso la voca quando l'italia perde e non è vero perché nella maggior parte di voi non lo venite così mi cazzo ma io sì quindi questo è quello che mi voglio dire ora e speriamo che lo rendete questo in maniera consola quindi non mi maffrontare in Olanda fisicamente e praticamente parlando da cacio giocato e da tutto il cacio mercato che ci sono statistiche anche le informazioni dei gol post partita e quindi mi metto anche one football per scaricare questa quindi c'è tutto mi raccomando e speriamo che sia una volta buona e giusta perché l'italiano verrà vincere contro l'olanda speriamo quindi iscritti nel canale cari miei e ti mantenete le notifiche per non perdere i prossimi appuntamenti like e commenti sulla questione di pompa anche su non perdono la mamma di pompa anche se la fece la tua programmedina se non è normale un po' più ma anche dei miei verti in bar e ne cea che vanno imparso queste mesure da cacio mercato e di tutti Poi i Linguish Unior che ci stanno prendendo in premier così come Molaumic e Chiesa e io non voglio che li cediamo perché sono incedibili e non sono da cedere questi qua perché Molaumic l'ha rimpiazzato con un altro giocatore quindi questo è tutto quindi mi raccomando e speriamo che Parisi e Scalini siano i difensori più ideali della squadra bianconiera quindi questo è il mio pensiero nel calciomercato quindi questo è tutto poi a Fresenenda, a Londi e poi a Emerson come Terzini oppure Camuyasso e tutto quindi mi raccomando e speriamo che lo ficcate in questa capoccia quindi l'Italia si deve smegliare ora o mai più quindi quindi dobbiamo rialzarci dalla sconfitta contro l'Aspania che ci fa male quindi mi raccomando e speriamo che io capirete una volta per tutte quindi sempre fino alla fine e sempre con l'Italia sempre in qualche cosa forse Italia e sia la chioma che è Italia e sia la chioma che io la creo ok Forza Forza Forza